Dopo il confronto con i candidati a sindaco di Fano, la CNA incontra quelli della città di Pesaro. Stasera, dopo il telegiornale Occhio alla Notizia, trasmetteremo il primo faccia a faccia con Francesca Frenquellucci del Movimento 5 Stelle che risponderà alle domande dei rappresentanti dell'associazione e degli imprenditori locali inerenti all'economia e alla piccola impresa. Una grande soddisfazione per la CNA che grazie alla collaborazione col CRAI, Gruppo Eurusole, riesce a mettere in campo questi confronti che sono molto positivi, sono confronti che qualificano notevolmente la corsa elettorale perché parlare di impresa, parlare di economia, parlare del tessuto vero dell'economia del nostro territorio è fondamentale per lo sviluppo della città di Fano, della città di Pesaro ma di tutte le città della nostra provincia. La CNA come sempre in prima linea nel confronto vero, diretto, con una piattaforma prammatica, molto seria, non è una lunga lista della spesa ma sono quelle 4-5 tematiche fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio e poterle presentare con tutti i candidati sindaco della città di Pesaro è davvero per noi un grande orgoglio. Tanti gli argomenti in discussione tra i quali il futuro della città di Pesaro e del suo sviluppo urbanistico, il tema della tassazione locale, quello della burocrazia e delle infrastrutture, dibattuta anche la questione della chiusura dei negozi e delle attività nel centro storico, così come quella dei collegamenti viari e del piano regolatore, insomma un confronto a tutto campo con Frenquellucci che si ripeterà giovedì 4 aprile con il candidato del centrodestra Nicola Baiocchi e giovedì 11 aprile con il sindaco uscente di Pesaro Matteo Ricci. Indagheremo sulle volontà dei candidati sindaco della città di Pesaro, così come abbiamo fatto nel recente passato con i candidati della città di Fano e la CNA è sempre protagonista nei temi dell'economia ed è soprattutto del lavoro e delle imprese.